Come hai il ciclismo? Sono Moreno Moser, vengo da Polo di Giovo, Italia. Ho iniziato a correre a 10 anni da G3, ero abbastanza scarsetto all'inizio. Il Tour de France per me è un po' il mio sogno più proibito. Non saprei definire il pubblico americano, la differenza dell'Italia lo vede come uno sport nuovo. Forse in Italia il ciclismo ha questa pecca che ha visto un po' come uno sport vecchio e forse da questa cosa sarebbe bene un po' staccarsi. Andare con una bicicletta non buona vuol dire sentirla tremare in discesa, in frenata e piegarsi in curva. Con l'Evo fin dal primo momento in cui ci sono salito ho pensato, è stupenda.